La quindicesima edizione del Rally Ronde del Canavese, una gara veramente combattuta, bellissima, un'unica prova speciale ripetuta quattro volte da questa mattina e con una vittoria finale davvero a sorpresa. Sinistra-destra 5, 10, tornante destro, intornante sinistro. Sinistra 4, sudosso, butta fuori! Sinistra-destra 6. Per la canavese, Sì. In, sinistra 3, lascia non tagliare, 3, lascia non tagliare, in sinistra 3, chiude in uscita. In sinistra destra 5, mossa no, 40, tornante destra. 10, semaforo a sinistra. Sinistra 5, per destra 3, lungo sporto. 106 con Cavu e Simone Grosso, primi classificati della classe MNUSU. Vediamo 106. Vediamo i tifosi piccanti del rally, complimenti ragazzi, vedo che il risultato è stato apprezzato. Non disfiamo la macchina proprio sul traguardo. È andato tutto bene, abbiamo usato la testa questa volta e dopo l'uscita del Torino ci andava, ci andava una vittoria. Un po' di testa e anche un po' di piede c'è stato. Un po' di piede, un pochettino, non tanta. Grazie ancora ai ragazzi, complimenti per la prestazione.